ma questo non mi piace presto volete che faccio la fotocopia della scaletta o ce l'avete finisco io finisci tu c'è che facevi anche un solo lì in mezzo alla fine e finisce nel casino si ma voi non è che riuscirete a trovare per domani sera uno sgabello leggermente più alto di questo tipo l'ideale per me sarebbe alto da terra 57 cm d'altronde gli sgabelli da bar sono alti 70 70 troppo alti io ho una postura un po' particolare per suonare con il basso mi affido a voi se riuscite a trovare allora A presto. 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 A presto.